Scattano uno contro uno con Tomas Márquez, Sia, prova a puntarlo, rientra, tacco per Bartesaghi, cross morbido in mezzo, Zeroli! Zeroli! In mezzo all'area piccola, fa 2-1 e riporta avanti il Milan, è tornato, e come? E si vede, Kevin Zeroli 2-1. Apertura buona di Victor per Scotti, ottimo la gancia in area di rigore, punta Scissumba, Scotti doppio passo, gran giocata, palla dentro, è 1-0 sul secondo palo, presente come sempre all'appuntamento, Diego Sia che si rifà dell'errore dal dischetto e porta avanti il Milan.